C'è una partita molto intensa, molto bella perché la squadra è partita col piede giusto, ci siamo ripigliati dopo un brutto periodo, quindi sono contenti tutti. Io in personale perché grazie a questa doppietta qua mi rimetto alla classe dei marcatori che era da un po' che speravo di rimettermi in gioco. Ultimamente sì, anche se all'inizio avevo un po' più di fatica, vedevo meno la porta, però con il lavoro adesso piano piano si ricomincia, dai, va per gol sempre. Adesso le ultime partite sono quelle più importanti, quindi tenere il posto ci aiuterà molto, quindi sì, tenere il secondo posto. E se riusciamo arriva anche il primo, quindi ho attaccato alla porta, come mi dicono sempre, attaccare la porta. Mentre il secondo gol, dicono tutti, gol di punta brutti, brutti, però è sempre un gol, quindi molto contento. Grazie a tutti.